domani 6 gennaio ultimo appuntamento con il presepe di torrette di fano si domani l'ultimo appuntamento partiremo dalle 16 30 tredicesima edizione la prima è andata benissimo onestamente data benissimo il tempo meraviglioso ci ha assistito fino fino all'ultimo e speriamo di rincontrarsi anche domani con la stessa con la stessa modalità di tempo il presepe riaprirà alle 16 30 con l'arrivo dei re magi poi su tutto l'itinerario del presepe dove ci saranno figuranti che animeranno le loro capanne con mestieri antichi di una volta e con soprattutto anche dei dei vestiti molto molto vicini all'epoca che poi finiranno anche con assaggi di pesce piedina e anche bruschetta per finire alla fine del tragitto con castagne e vin brulee questo è l'appuntamento imperdibile ai giardini dell'albergo torrette a torrette di fano vi aspettiamo numerosi anche perché se il tempo non ci assisterà non ci sarà replica neanche domenica l'ultimo appuntamento poi ci risentiremo e rivedremo soprattutto il prossimo anno